Allora sono passate svariate ore dopo la partita SS Lazio e Isolotto Firenze e addirittura per fare l'intervista a questo fenomeno del calciacinque sono dovuta andare a cena fuori con lei a mangiare dove pagherai tu ovviamente però io non potevo mancare a questo appuntamento perché Gimena Blanco, stiamo intervistando a Gimena Blanco di ogni maledetta domenica è una grande soddisfazione dopo la Coppa avete dimostrato il grande talento della squadra e di ogni singola persona stiamo andando sempre meglio su queste partite penso di sì penso che magari per l'inizio che avevamo fatto l'anno scorso hanno cominciato tutto a settembre, ottobre, non era il migliore però ora si può dire che comunque le cose sono uscite fuori e penso lo meritiamo perché lo abbiamo guadagnato sempre sul campo ricordiamo pure il punteggio come è finita la partita perché è finita 3 a 6 per l'isolotto un primo tempo, una bella partita comunque anche perché la Lazio si giocava l'opportunità ancora di rientrare in questi playoff e quindi ha dato tutto in un primo tempo dove è andato in vantaggio ben due volte ed è finito 2 a 1 il primo tempo poi il secondo subito nei primi minuti iniziali della partita due bellissimi tue assist hanno portato in un minuto di gioco prima col pareggio e poi dopo con la rimonta di Rocia quindi vogliamo raccontare in breve un pochino questa partita che è stata tesa anche verso il finale no penso che comunque era una partita che si aspettava perché noi ci avevamo il primo posto che è una cosa bella comunque è il loro classificare quindi penso che è stata il giusto come doveva essere perché noi ci ha costato il primo tempo un po' di più metterci in partita poi siamo riusciti a farlo e loro comunque sul fatto fisico e aggressivo hanno cercato di girare la partita e invece è finita bene anche per noi quindi ancora di più complimenti per l'isolotto e Gimena Blanco un nome, una garanzia dove vai tu si vince cioè io sono arrivata alla conclusione che tu non è che sei forte tu porti bene tu sei un amuleto magico cioè ormai tiriamo l'età Gimena fai vincere pure i giovani dai largo a altre persone basta vincere comunque a parte gli scherzi cosa dimmi tre cose fondamentali che servono a un gruppo per vincere tu che sei la ragazza la giocatrice più titolata in Italia in questo momento io penso che comunque tutto si basa un po' nelle motivazioni sia individuale che gruppale un po' nella mentalità e poi alla fine comunque anche un po' di cuore e di voglia soprattutto anche un gruppo di squadra cioè di momenti comunque che trovi la motivazione e che con quello dal fianco puoi vincere secondo me parte comunque tutto gruppale poi al di là delle giocatrici e le cose individuali che abbiamo perché si è dimostrato all'inizio comunque stavamo le stesse persone finché non ci siamo ritrovati fra tutte non si andava a vincere quindi secondo me è un po' di tutto al di là del campo senti Gimena io non so se ricordo bene però per me ho questo ricordo tu sei per me la prima straniera venuta in Italia cioè forse c'è stato il pregio ma tu sei veramente la prima che è sbarcata in Italia e ha fatto la differenza oggi di straniere ne abbiamo a bizzeffe anche grazie ai eventuali procuratori o giocatori che portano altre ragazze quindi la trafila è pure un pochino più facile perché il movimento aumenta, sta crescendo e quindi ci sta anche più voglia nelle altre nazionali di venire in Italia a giocare se tu dovessi tornare indietro sceglieresti di arrivare in Italia oggi che il movimento è molto più movimentato oppure rifaresti tutta la trafila tua iniziale? vabbè come sono andate le cose rifarei tutto un'altra volta le stesse scelte sportive e tutto quanto penso anche se il movimento era un po' inferiore a quell'epoca scelgo di arrivare per dire quando eravamo contate con le mani le straniere perché comunque è stata una cosa bella per me tipo orgoglio per me riuscire a crescere e andare avanti anno a anno forse sarebbe stato meno bello arrivare per un procuratore cioè per la nazionale cioè magari comunque è bello questo che ora il movimento è cresciuto però io scelgo resto ancora con quelle strada che ho fatto io senti ti faccio questa domanda che è un po' impertinente un po' pepata va non voglio rischiare argomenti brutti però la mettiamo un po' là a ridere tu all'inizio dell'anno a 7 agosto si è alzato un polverone il caso blanco cioè sei diventata famosissima nel giro di poche ore perché ovviamente hai iniziato la stagione con una società e poi sei sparita e sei riapparsa con un'altra maglia polverone assurdo eri più famosa di Cardi eri su tutti i social messaggi, contro messaggi chi ti puntava il dito contro e tutto facciamo una battutina proprio leggera su questa cosa cioè buttiamola a ridere ma tutta sta notorietà chi te l'ha detta? la federazione di farti sta pubblicità vabbè comunque niente sono scelte è nulla sono scelte anche sportive che tra l'altro è andata bene penso perché ormai comunque penso quello che Gliassi ha fatto oppure se mi piacerebbe vincere un altro scudetto comunque Gliassi ha vinto Coppa quindi per me che ti devo dire per me è tanto quindi devo scegliere un'altra volta poi dipende il polverone tutte queste cose non l'ho fatto io è la gente che lo fa senti Gime che cosa riserva il futuro per Gime da Blanco? che cosa ci saranno il tuo domani? nel mio domani? bella domanda io penso che comunque come ti ho detto sempre le motivazioni si cercano si trovano e tutto quanto io ho cercato di trovare le mie ogni anno per essere motivata per riuscire a vincere qualcosa e tutto quanto e ora non dico che non che non vorrei continuare però sicuramente devo cominciare a vedere oltre le sport oltre al di là di ricorrere dietro una palla devo cominciare a vedere che cosa farò del mio futuro dalla possibilità di vincere ad altre persone no è un evento questo no no c'è speranza per voi l'anno prossimo si ferma la Blanco lo spedetto lo vince qualcun altro però penso che c'è parecchie possibilità che comunque inizio a vedere la mia vita in Argentina la mia idea sinceramente è iniziare a vedere tanti fatti personali là però se c'è la possibilità con una squadra di venire a giocare Coppa Italia e tutte queste cose sinceramente ancora oggi per oggi del giro non mi piacerebbe uscire totalmente però penso che comincio a pensare nella mia vita privata quindi venire in una seconda metà di campionato per aiutare una squadra ventola nelle fanali sì se ci sta proprio la possibilità perché nel momento in cui decide di stare di là non è detto che che poi ti accordi o che ci starà qualcuna squadra che magari vuole che non vieni all'inizio che vieni dopo cioè non lo so non l'ho mai fatto però ci può stare quella possibilità e vedremo poi se quello che viene viene comunque sto cercando di fare un altro passo senti l'ultimissima domanda proprio per orgoglio personale perché ci conosciamo da troppo tempo ormai devi fare un saluto al napoletano a tutti i sportivi se tu mi fai un'altra intervista più avanti ci veri una roba grazie grazie qui qui parlene